Musica Cari amici di Milano 1, come vedete siamo collegati con il dottor Mozzi, il nostro dottore preferito, vedete il mio fondale, non sono a Milano, presso la nostra sede di Milano 1, ma sono a Cattolica, quindi vedete un bel mare di dietro, sono a fare qualche servizio per gli alberghi, cercheremo di far venire voglia di andare in vacanza a qualcuno, poi troverete tutti i video, tutte le interviste anche su Milano 1 e su Spotify. Ciao Piero, come stai? Ciao ciao, stiamo, ma guarda sono abbastanza... al di là di tutto quello che sta succedendo, Covid, Ucraina e vi dicendo, perché con l'acqua che non è stata tanta, tantissima che è venuta, comunque la fontana di Molliazze ha ripreso a filare, almeno c'è praticamente adesso un getto d'acqua grande come questa penna birra. Prima venivano 20 gocce al minuto, adesso viene un filo, speriamo che tenga, perché vediamo un po', poi non c'è da passarsi la testa prima di essersi la rotta, però vedremo. No, no, certo. Vabbè, venerdì sono lì a Molliazze, magari facciamo un'immagine della fontana, sperando che ci sia un po' di acqua in più. Allora, 347-397-2391, il nostro numero WhatsApp per interagire con noi, con le vostre domande, i vostri commenti e poi la mail diretta del dottore, infochioccio.it. Mi raccomando, se dovete mandare messaggi al dottore, che siano quelli... Non tutti, cioè non male all'unghia, ma cose importanti, perché comunque sono sempre tantissime e il dottore cerca di rispondere a tutti, quindi non intasategli la mail per cose, diciamo, futili. Magari quelle più futili, mandatele al numero WhatsApp, così almeno durante le dirette cercheremo di dare una risposta anche noi. Piero, io stasera volevo, prima di parlare di consigli, mica consigli, il nostro solito approfondimento, nostro, diciamo, casalingo sull'attualità, l'informazione. Ho ricevuto oggi, nonostante sia qua, un'agenzia giornalistica Ascanews. Sai che io seguo spesso quelli di Ascanews, li trovo come un'agenzia giornalistica vera, vera, giusta, cioè che faccia spazio a tutti e pubblica a tutti. Mi hanno mandato questo studio, che arriva tra l'altro dal Gemelli di Roma, pubblicato poi sull'American Journal, Respiratory and Critical Care Medicine, che segnala un rapporto temporale verificato dopo 3-5 giorni successivi alla vaccinazione nei soggetti affetti della malattia rara della fibrosi polmonare idiopatica. In Italia si stima che siano sui 30.000-50.000 le persone affette da questa malattia rara. E praticamente il vaccino non aiuta a uscirne da questa cosa, anzi, sembra che possa scatenare delle problematiche importanti, anche il decesso. Quindi voglio dire alla fine della fiera, vaccino, 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 però qualche problematica c'era, no? C'è? Ah beh, ci sono, basta vedere quanti casi, che poi la connessione, figuriamoci, nessuno non andrà a cercare, a verificare, quanti casi tra gli sportivi ci sono verificati di problematiche cardiocircolatorie. L'ultimo, quello che è avvenuto sabato nei giorni, di questi ultimi giorni qua, quel giovane di 27 anni, calciatore, calciatore amatoriale, vi dicendo, stroncato, stroncato da un arresto cardiocircolatorio. Ma figuriamoci del resto, poi negli Stati Uniti c'è stato l'intervento dell'FDA per bloccare, per fermare con Johnson & Johnson il suo vaccino, perché si sono registrati diversi casi di decessi per trombosi. Figuriamoci qua in Italia, è di là da venire, che vadano a cercare delle relazioni. Qua non si può proprio dire, non esiste, non c'è la possibilità. Che poi ci sono dei nomi di vaccini che una volta c'erano e adesso non si sentono più. Tipo tu hai detto Johnson & Johnson, ma anche AstraZeneca mi sembra che sia sparito un po'. AstraZeneca è sparito, Johnson & Johnson è sparito, perché poi sai, lì tutti quanti parlano in modo entusiasta, fantastico, dei vaccini, ma non sanno che dietro, tra le case farmaceutiche che li producono, ci devono essere di quelle guerre, che è altro che la guerra tra l'Uso e l'Ucraina. Ci sono storie per far sì che un vaccino non venga utilizzato, per demonizzare magari un vaccino, far apparire che le reazioni magari di AstraZeneca siano più terribili degli altri. Poi magari se uno va a vedere, forse fosse, ecco, è l'opposto. Ma poi ci vorrà del tempo, ma poi tutte le storie, bene o male, per Anna Galla. Sì, sì, certo. Il famoso diavolo che non riesce mai a fare i coperchi. Ecco, è lì, quindi. Certo, senti, un'altra notizia che volevo commentare un attimo con te è l'addio a Walter Di Benedetto, un malato che lottò per la legalizzazione della cannabis terapeutica, era affetto da una grave forma di artrite reumatoide. Noi ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato un po' dietro. Sì, sì, ne abbiamo parlato. Avevo cercato anche i contatti, ecco, per vedere, di dargli una mano, ma non è stata presa in considerazione, perché quando io ho telefonato, che tra l'altro me lo trasmettesti tu, il numero di Marco Cappano, il numero del contatto, ecco, quando quello mi chiese mai in cosa si tratta la sua terapia, mi l'ho detto, si tratta di capire la causa, come mai si sviluppa quella malattia, e tra le cause possibili, testuali parole, molto, molto facilmente e molto probabilmente c'è un discorso alimentare. Basta, non sono mai più stato contattato. Dopodiché io, quando so di qualcuno che ha dei problemi particolari, ecco, problemi gravi, severi, cerco di farmi in due, in quattro, in otto o anche più, però se uno chiude orecchi, naso, bocca e occhi, li lasciamo bollire nel loro brodo. Mi spiace anche perché, tra l'altro, era stato vittima di un grosso sopruso da parte dello Stato italiano che l'aveva processato per la coltivazione di cannabis, spazio di cannabis, uno che voleva usarla a fini terapeutici per i suoi gravi, gravissimi problemi di salute, di dolore e di dicendo. Tra l'altro, le news dice, 49 anni, morto per arresto cardiaco. L'artrite reumatoide è questo, poi, se non viene curato in un certo modo, che può creare, che crea, come ultimo stadio. Non lo so, per dare un giudizio dovrei sapere qualcosa di più. Ma normalmente questa malattia, cioè, come si evolve se non viene curato? Ti colpisce a livello di strutture articolari, muscolari, tendine, anche osse, anche addirittura con deformazioni osse, ti blocca a livello cardiocircolatorio, non è matematico che ci sia una... Poi lì bisogna vedere che trattamenti farmacologici assumeva, faceva, niente. No, per dare un giudizio bisogna avere in mano informazioni un po' più precise. Certamente mi è capitato di avere a che fare con persone con l'artrite reumatoide che se la sono cavata. Magari dipende in che stadio si interviene, perché magari quando l'artrite reumatoide è molto, molto avanzata può essere che anche un discorso alimentare non abbia più efficacia. Però sarebbe stata la necessità di provare, siccome non avrebbe avuto nessun costo, nulla. Sarebbe costato nulla di nulla, se non provare, vedere, verificare. Certo. Senti, Piero, nella tua esperienza, una malattia del genere, tipo l'artrite reumatoide, colpisce un gruppo sanguigno in particolare rispetto agli altri? Ma, guarda, mi sono capitate poche persone di gruppo AB con l'artrite reumatoide. Più facile persone di gruppo 0, ma anche A, ma anche B, anche perché va bene. Praticamente la parte di popolazione meno numerosa, i portatori di gruppo AB, sono quelli che si gaccia tra il 3 e il 5%, e quindi è facile che uno ti si presenti con questi problemi. È più facile trovarli tra le persone di gruppo 0, che praticamente la popolazione portatrice di gruppo 0 si aggira intorno al 35%. Ecco, e quindi... Certo. Senti, leggiamo qualche domanda da casa? Sì, tra le cose da dire che non abbiamo ancora letto la storia, perché questa settimana, guarda, uno è venuto su addirittura anche ieri sera, a dirmi, ma Piero, guarda, un mio amico mi ha detto che c'è una tua pubblicità, ecco, in rete, su Facebook e via dicendo. Ecco, quella te lo dico io. Allora, questa schifezza, fate finta che non esista, perché il dottor Mozzi non c'entra nulla, la sua immagine è stata, tra virgolette, diciamolo tranquillamente, rubata e viene utilizzata per una pubblicità di prodotti, diciamo, medici, di dieta, di germi, per pulire l'intestino, con vari nomi, il dottore non vende assolutamente nulla. Al massimo propone il suo libro, il suo libro viola o quello azzurro del Covid, ma per il resto non c'è niente. Tutto quello che trovate in rete è una emerita schifezza, non c'entra niente, il dottore non vende assolutamente niente. Andate a vedere anche il sito direttamente, dottormozzi.it, c'è scritto anche tutto, sono prodotti che non c'entrano nulla. Hanno rubato l'immagine, ripeto, del dottore, il nome del dottore, e fanno finta di fare una bella intervista dove il dottore non c'entra nulla e quei prodotti sono una fregatura. Ok? Giusto così? Certo, certamente. È una pubblicità che utilizza la mia faccia. Chiedo, chiedo magari un favore alle persone, alle persone che incappano in questa pubblicità, se possono fare una segnalazione a Facebook a dire guardate che voi permettete una pubblicità ingannevole di un'azienda, di una ditta che sta utilizzando la faccia di una persona che proprio non c'entra niente e che ha già fatto degli esposti, ma gli esposti farli in una nazione come l'Italia è tutto lì. Altro che la mafia. Già. Certo. La mafia. Va bene. E noi andiamo avanti, andiamo avanti con qualche domanda. Allora, qui c'è Marinella che ha 65 anni, in gruppo A, scrive da Zurigo, grazie dottore, sto seguendo la dieta e vedo ottimi risultati, anche se da poco tempo che lo fa. L'unica cosa che ho è un tremolio all'occhio destro. Vorrei cercare di capire a cosa potrebbe essere dovuto. Gruppo del sangue? È un gruppo A, 65 anni, Marinella da Zurigo. Allora, Marinella fa sempre venire in mente la canzone stupitosa di D'Andrea. Dunque, tremolio, ma il tremolio all'occhio, se ci farà caso per bene, vedrà che non è presente 24 ore su 24. In certi momenti ci sarà e in altri no. E se ci farà caso, con una buona attenzione, potrà vedere e capire che quel tremolio si verifica, si presenta dopo i pasti. per cui deve fare attenzione. Magari anche, tanto per dire, il caffè, che magari alle persone di gruppo A può andare bene, il caffè alle persone di gruppo A, magari potrebbe creare dei problemi. O lo stesso il tè verde, o qualche altro alimento, o un eccesso di semi oleosi. alla signora Marinella di Zurigo le diciamo attenzione, scriva, faccia il suo bel diario, scriva, è arrivato il tremolio all'occhio che prima ho mangiato oppure bevuto questo, questo e quest'altro. In quei casi lì, quando arriva, il famoso e miracoloso tazzone di acqua pressoché bollente e il tremolio come d'incanto è molto molto facile e probabile che sparisca. Ok. Andiamo avanti. Andiamo dalla signora Gianna, che è un gruppo B, 36 anni, scrive da Firenze e dice dottore io ho avuto il Covid sei mesi fa, ma ho ancora male alla schiena e dolore alle ossa della schiena, tutte. Cosa si può fare? Gianna, ma qua siamo proprio con le persone che scrivono o che portano il nome di bellissime canzoni. Prima Marinella e adesso Gianna. Ti ricordi, no? Gianna, 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 Gianna. Io non ci ho fatto caso, devo essere onesto, io ho fatto finta, c'è nel senso, finta. I nomi non ho associato alla canzone, però è vero, adesso che lo dici è vero. Sì. Rino Ghettano forse, no? Gianna, Gianna. È bene per la canzone. E insomma, gruppo B. E lì casi sei mesi, va bene, adesso quando uno presenta dei problemi, siccome ha avuto il Covid e tutti quanti scaricano sul Covid le storie, lo fanno diventare il long Covid. Ecco, secondo me invece magari, sì, certo, ci può essere che il sistema immunitario è diventato un po' più sensibile, però andare, bisogna dubitare dei soliti noti dolci, di zuccheri, certamente il pomodoro che se lo scordi, una persona di gruppo B che stia attenta anche alla frutta, all'eccesso di frutta, all'eccesso anche di semi oleosi, ma tra i semi oleosi e la frutta, il fruttoso sicuramente può creare un po' di problemi. Quindi, sì, soprattutto quando ci sono in valo le strutture osse, articolari, tendine, muscolari e dei legamenti, è quello. Adesso dai, piano piano sta arrivando il caldo, la stagione bella, il sole è da fare come le lucertole e andare a mettersi al sole che poi se dovesse abitare in un posto di mare potrebbe approfittare e fare delle belle salviature quelle che andavano di moda anni fa anche per gli atleti calciatori e quindi a proposito di atleti non so se ti è scappato l'occhio che adesso oramai sono troppi gli atleti calciatori tennisti che incappano in problemi c'è anche quello che è l'atleta più statosferico nel panorama italiano sia Marcel Jacobs che è stato ha dovuto rinunciare una gara una competizione del tour internazionale perché ha avuto problemi addominali intestinali avevo letto e mi è capitato di sentire una sua intervista dicendo che adesso si era trasferito a Roma e vi dicendo dei suoi pasti preferiti quindi pasta alla matriciana ecco e vari tipi altri analoghi di questi primi piatti molto sculenti ricchi e carichi di grassi magari di altre cose particolari e quindi poi immancabilmente si finisce con l'avere dei problemi come il buon tennista Berrettini che è ancora in ballo con ancora in ballo con i suoi bei problemi di apparato digerente struttura muscolare addominale e vi dicendo certo senti Piero Katia da Brescia alta 1,62 pesa 52 kg 50 anni è un gruppo A chiede come mai le unghie degli alluci le diventano gialli se è legato all'alimentazione se c'è qualcosa di sbagliato ma intanto dubitare sempre anche delle calzature perché a volte può essere può essere che le calzature anche a me a volte è successo è successo di di trovarmi con delle le unghie degli alluci perché sono le più grosse con le altre le dita dei piedi sono sono piccole le unghie delle delle altre dita invece le alluce mi era capitato che tra l'altro mi era durato un bel po' con le con scarpe di cuoio bagnandomi ma avevano lasciato una coloratura non da poco sul sugli alluci che poi ci è voluto un bel po' di tempo e a meno che magari che non mangi troppe carote perché le carote possono determinare il carotene può dare queste caratteristiche di colorare la cute e le unghie e se no che guardi bene che cosa sta mangiando poi certamente sarebbe mi farebbe piacere vederle perché uno dice colorate di giallo bisogna vedere un attimo se c'è una differenza tra gli alluci e le altre unghie comunque sì da dubitare anche anche delle calzature certo vabbè allora signora la Katia le diciamo di mandarci una foto magari tramite whatsapp senza intasare la mail del dottore la mandi qua che poi venerdì siamo in diretta da mogliazze vediamo ok va bene senti un uomo Luca 42 anni che ci scrive da Ancona è un gruppo zero dice io da qualche mese dottore ho dei dolori alle ginocchia sono alto 1,82 peso 72 kg mi piace correre e ultimamente faccio fatica a correre perché ho male alle ginocchia entrambi può essere qualche alimentazione lui si dice di seguire la dieta del gruppo sanguigno si gruppo zero ma anche io adesso è un periodo dopo che mi sono tirato troppo il collo con la potatura delle piante per cui insomma ci ho dato proprio dentro ma andare su proprio su delle piante molto alte a 5-6 metri a scalare a scalare a scalare le piante poi ti trovi ti trovi a sottoporre soprattutto alla mia età a sottoporre altro che allo stress fisico le articolazioni del ginocchio tendini legamenti menischi vi dicendo per cui adesso soprattutto il ginocchio sinistro che era uno di quelli già uno quello più più insomma colpito in passato e dolci e zuccheri possono essere tra i maggiori responsabili e la frutta forse ancora di più spero che non usi il caffè che non usi il tè di nessun tipo neanche il tè verde poi bisogna vedere se c'è qualche versamento nella cazzola all'interno dell'articolazione c'è un versamento se ci sono versamenti potrebbe fare potrebbe fare sicuramente dei cataplasmi di argilla di notte tenerla tutta notte sul libro sia del covid che quello della dieta c'è come si applica il cataplasma e poi altre cose non so come come stati fitoterapici da usare potrebbe usare il sambuco potrebbe usare il ribes nero meglio quello non tanto ricavato dalle gemme ma quello ricavato dalle foglie anche la camomilla romana e poi massaggiare frizionare e magari con olio di timo olio di iperico vediamo da vederlo certo e poi certamente magari adesso da avere un po' di cautela da non sottoporlo a tensioni a affaticamento sovra si sottoporlo a uno stress lavorativo particolare magari fare fare un accertamento provare a fare una risonanza vedere che cosa cosa succede se c'è qualche qualche lesione se c'è qualche lesione dei legamenti dei menischi senti Piero una mia curiosità nel caso di una lesione di farsi male meglio fare la risonanza o la tac cioè che differenza c'è tra questi due esami ma adesso vedo che per quanto riguarda le problematiche oste articolari muscolari tendine soprattutto nell'ambito dello sport viene privilegiata la risonanza per cui io mi affido mi affido a quel fatto lì e quindi anche io consiglio di fare la risonanza cioè la vecchia lastra ma sicuramente ma no le vecchie lastre quando ci sono in ballo strutture quando ci sono in ballo strutture osse le vecchie lastre vanno bene quando ci sono in ballo strutture allora è meglio un'ecografia quando ci sono in ballo strutture muscolari tendine legamentose è meglio la risonanza o la tac sì ok allora io ti ringrazio anche per questa sera siamo partiti un po' più tardi per un problema mio perché come vedete dietro di me c'è il mare da ieri sono in giro per la riviera adriatica a fare un po' di interviste per alberghi e strutture per le vacanze c'è tanta voglia comunque di ritornare un po' in vacanza dopo questi due anni un po' diciamo bui vabbè hanno anche la paura di questa tra virgolette guerra che comunque c'è cerchiamo di fare anche questa cosa facendo tornare un po' la voglia della vacanza io però venerdì sono da te a mogliazze in modo tale che saremo in diretta da mogliazze ricordo sempre 342 397 2391 il nostro numero whatsapp per mandare i vostri messaggi la mail direttamente del dottore info chioccioladottormozzi punto it piero volevi dire qualcosa volevo che sì beh intanto che magari per la trasmissione di venerdì siccome mi è parso di vedere in circolazione che quasi forse risuscitato Oliver Rardi il famoso comico già che si parla di comici potrebbe magari sarebbe stato un ottimo presidente visto quello che un comico sta facendo in Ucraina Oliver Rardi magari sarebbe stato un ottimo presidente degli Stati Uniti sicuramente avrebbe combinato meno macelli in giro per il pianeta e quindi no mi è sembrato di vedere in giro un suo parente stretto o una sua controfigura magari vediamo se riusciamo magari troviamo una foto magari troviamo una foto magari troviamo una foto perché mi è sembrato di sentire una voce che dice ma guarda questo qua e poi ho visto di sfuggito una persona che mi sembrava quasi lui sai a volte poi può succedere dobbiamo dobbiamo parlare anche del premio Pulitzer forse c'è qualcosa da parlare sì perché sai ci sono ci sono i nostri cari amici dell'Hotan in Francia li chiamano gli amici dell'Hotan qua li chiamano in altri parti li chiamano della nota ecco la nota sai cos'è la nota? no la nota la nota è la nuova organizzazione dei terroristi atlantici organizzazione potente io sapevo la nota quella sul diario eh sì e questa qua è una nota invece particolare è una nota che ha un potere incredibile sta sì sì ne parleremo ne parleremo ma invece a Codogno allora Codogno piazza Cairoli sotto la loggia del mercato sabato 14 sabato prossimo alle ore 16 c'è un incontro organizzato dall'associazione politica di base di forza del popolo e sono stato invitato per parlare appunto come abbiamo fatto noi qui all'inizio per quanto riguardava SARS e COVID-19 e COVID cosa fare la situazione attuale ecco green pass no green pass vaccini no vaccini ecco restringimenti allargamenti ecco anche perché Codogno è dove un po' tutto è iniziato qua in Italia Codogno è dove è stato ritenuto che abbia preso sia una cittadina da cui è partita tutta quanto l'avventura il paziente 1 che poi magari prima ce n'erano già stati 10.000 ma però quello lì era il paziente 1 e quindi chi ha voglia di venire a sentire il dottor Vozzi e tutto quello possiamo trovare chi abita non tanto distante insomma Piacenza di Cremona ci si può trovare anche perché bisogna sempre stare in campana perché c'è qualcuno tra coloro che hanno in mano un grande grande potere che non vogliono mollare l'osso perché questa storia del SARS-CoV-19 del COVID a 19 hanno permesso a qualcuno di avere in mano un grande grandissimo potere sulla vita delle persone e poi con la connivenza delle alte sfere tanti italiani si sono trovati con praticamente un restringimento dei propri spazi vitali e spazi cosiddetti democratici vediamo va bene allora grazie a tutti per averci seguito ci sentiamo e ci vediamo venerdì alle 20.30 da mogliazze dal dottore quindi io vi ringrazio per questa sera scusate se siamo partiti un po' più in ritardo è stata colpa mia vi chiedo scusa comunque l'appuntamento c'è sulla web radio sul podcast e la trovate anche da domani anche sulle nostre pagine youtube quindi ci siamo vi facciamo compagnia sempre e vi ricordo 347 397 2391 o la mail del dottore info chioccioladottormozzi.it grazie Piero Paolo tante cose belle tanti auguri provvederemo venerdì per la torta per festeggi ma non ti preoccupare va bene così è già un bel regalo fare questo appuntamento qua con te una buona torta di mandorle va benissimo grazie ciao ciao a te ciao 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 a te